Presidente, una bellissima vetrina per la Regione Marta. Sì, è un'occasione importante per mostrare il nostro entroterra e per portare in tutta Italia e all'estero le bellezze della nostra Regione. E poi credo che anche in un momento così complicato come quello della pandemia sia un'occasione per restituire un po' di entusiasmo a tutte le comunità che sono state coinvolte dal passaggio del Giro d'Italia.